I Wing Music Airs, i premi della musica italiana, verranno trasmessi stasera su Raiun in prima serata e martedì prossimo, 12 giugno, vedranno la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Le due giornate saranno ricche di star italiane ma non solo, Alvaro Soler, Rita Ora e Maya sono tra gli ospiti internazionali che si esibiranno all'Arena di Verona. Gli artisti Tra gli artisti che si esibiranno sul palco nel corso delle due serate troviamo Laura Pausini, Bebi Cappa, Claudio Baglioni, Max Mezzali, Coetz, Cristina Davina Fitnoemi, Elisa, Fiorella Mannoia, Emma, Ermal Meta, Ernia, Fabri Fibra, Francesco Gabbani, Maneskin, Gali, Giorgia, Biagio Antonacci Il, Jake La Furia, Levante, Madman, Fabrizio Moro, Guepequegno, Mostro, Gianna Nannini, Negrammaro, Neck, Nitro, Nois Narcos, Benji e Fede, Francesco Renga, Sfera e Basta, Shade, Lo Stato Sociale, Takajek e Trafit, Giussi Ferreri, Tedua, Te giornalisti, Ultimo, Antonello Venditti, Zucchero. I premi I Wing Music Caers premiano gli artisti italiani che nello scorso anno hanno conquistato con i propri album le diverse certificazioni FIMI-GFK Retel in Technology Italia, Oro, oltre le 25.000 copie, Platino, oltre le 50.000 copie, Multiplatino che in particolare si divide, Doppio Platino, oltre le 100.000 copie, Triplo Platino, oltre le 150.000, Quadruplo Platino. Oltre le 200.000, 5 volte Platino, oltre le 250.000, Diamante, oltre le 500.000 copie.